La città metropolitana di Torino ha iniziato i lavori in maniera sostanziale legati alla stesura del piano urbano di mobilità sostenibile. È un piano che riguarderà tutto il territorio della ex provincia, mira alla sostenibilità non solo ambientale della mobilità ma anche sociale ed economica e soprattutto l'obiettivo principe è quello di connettere le zone tangenziali a quello che è sempre stato il centro della provincia, vale a dire Torino, e fare in modo che ci sia un servizio adeguato soprattutto nelle aree marginali e rurali. Questo è l'obiettivo fondamentale, è quello di colmare quel gap che oggi esiste e quindi superare quel deficit trasportistico che in fin dei conti va a interagire in maniera fortemente negativa con altri diritti dei nostri cittadini come sono il diritto allo studio, il diritto al trasporto verso il luogo di lavoro, il diritto alla sanità. Quindi è importante riuscire a connettersi in modo intermodale da tutta la città metropolitana e fare in modo che non solo a Torino vi siano le stesse disponibilità di trasporto che dovrebbero essere adatte anche a chi vive soprattutto nelle zone più marginali della nostra città metropolitana.